Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito due decreti di sequestro preventivo per un importo complessivo di circa 760 mila euro nei confronti di tre imprenditori indagati per reati tributari. Il primo dei due provvedimenti ha riguardato i rappresentanti legali di due società cooperative attive nel settore delle pulizie e degli ospedali e case di cura indagati per aver indebitamente compensato le imposte dovute all'amministrazione finanziaria con crediti tributari del tutto fittizi inesistenti per un importo di circa 160 mila euro. La seconda misura cautelare patrimoniale ha riguardato invece una vicenda di omesso versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta essendosi appurato in particolare che il rappresentante legale di una società attiva nel settore delle telecomunicazioni satellitari ha trattenuto dalle buste paga dei propri dipendenti oltre 600 mila euro di ritenute che non ha poi versato all'erario. I provvedimenti eseguiti dalla compagnia della guaglia di finanza di Torre Annunziata hanno consentito di sottoporre al sequestro denaro e ingenti quote societarie nonché un'autovettura e un motociclo di recente immatricolazione.